Ciao a tutti, oggi prepareremo il cavolfiore a Varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono cavolfiore a pezzetti, acqua, sale, pepe e olio. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e un cucchiaino di sale. Chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il Varoma con il cavolfiore, chiudere con il coperchio e cuocere per 40 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2. Il cavolfiore è cotto, trasferire in un piatto da portata. Condire con sale. pepe, pepe e un filo d'olio. Il cavolfiore a Varoma, grazie e alla prossima ricetta. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.